L'impero di Antonino Pulvirenti nel mirino della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta per una presunta bancarotta della Meridi. Una perquisizione è stata estesa anche ad Agrigento, dove la società opera con diversi punti vendita nei comuni di Palma di Montechiaro, Favara, Naro, Canicattì, Agrigento, Licata, Portempedocle, Ribera, Ravanusa, Grotte, Aragona e a 20 sede studi di commercialisti e consulenti aziendali. La società che fa parte del gruppo Finaria, la cui capogruppo Finaria S.p.A. ha come maggiore azionista l'ex patron del calcio Catania Antonino Pulvirenti, controlla 90 punti vendita dei supermercati Fortè in Sicilia con oltre 500 dipendenti. È stata recentemente ammessa dal Tribunale di Catania l'amministrazione straordinaria per i grandi gruppi industriali in crisi. Secondo quanto accertato dalla Procura, ha un'esposizione debitoria di oltre 90 milioni di euro di debiti erariali e previdenziali, che l'ha portata all'insolvenza e alla nomina di commissari giudiziali. Militari delle fiamme gialle del nucleo PEF, su delega della Procura, stanno acquisendo ogni documento che favorisca la ricostruzione dei rapporti commerciali intercorsi tra la società insolvente e le altre imprese del gruppo Finaria. Il decreto del GIP autorizza anche perquisizioni domiciliari nelle residenze dell'imprenditore Antonino Pulvirenti, Di Carmelo Sapienza, rappresentante legale di Meridi, Santi Maria Pulvirenti, rappresentante legale di Biorossa, Francesco Cipolla, amministratore della Meridi con il riconoscimento di ampi poteri di gestione, Davide Franco, presidente del CDA di Finaria, e del Calcio Catania, Giuseppe Davide Caruso, componente del CDA di Finaria e Calcio Catania.